Ben ritrovati amici e amici rossoneri di Milanello, un saluto dalla casa del Milan e dei milanisti su YouTube, vi ricordo come sempre di lasciare un like qui sotto, siamo nel vivo del calciomercato, siamo anche vicini alla gara del Milan che speriamo possa vincere contro la Roma, assolutamente gara da non sottovalutare, nel senso che la Roma comunque alterna partite top a partite deludenti, noi dobbiamo fare il nostro dovere, recuperiamo i giocatori fortunatamente, però Massimo attenzione sarebbe molto importante riprendere e iniziare l'anno con una bella vittoria. Vi ricordo, parleremo ovviamente anche delle notizie da Milanello, vi ricordo appunto di lasciare un like se vi va ragazzi, spero tantissimi like, fate sentire il vostro calore anche nei confronti del nostro canale e iscrivetevi qui numerosissimi, attivate la campanella mi raccomando, lo dico a bassa voce, in pochi stanno partecipando al concorso, fai iscrivere tre amici nuovi di Milanello, scrivi nei commenti che hai fatto iscrivere e uno di voi il 14 febbraio vincerà la maglia del Milan. L'hanno fatto in pochi, quindi se lo fate anche voi avete sicuramente tante possibilità in proporzioni percentuali di vincere la maglia, affrettatevi perché secondo me non lo faranno in tanti. Ragazzi, uno dei format più apprezzati delle finestre di mercato, anche della finestra di mercato invernale, le 4 news di calcio mercato, anche se in realtà sono 5, perché parliamo di 5 giocatori, tra cui Sven Botman, che è diventato un po' il sogno di questo inizio gennaio di molti tifosi rossoneri per quanto riguarda la difesa. L'obiettivo sicuramente più importante è rinforzare la difesa, visto l'infortunio del Principe Azzurro Kier. Partiamo subito, allora partiamo però da un paio di notizie. La prima, che riguarda gennaio però per l'estate, il Milan ha come prospettiva quella di rinforzare la difesa anche per l'estate. Il difensore serve subito, visto l'infortunio di Kier, ma anche in estate qualcosa va fatto, visto che comunque Romagnoli a oggi non ha rinnovato. Confermiamo la discrezione che per primo ha rilanciato il collega amico Daniele Longo di calciomercato.com, che ogni tanto abbiamo ospite anche sul nostro canale. Cioè, nei discorsi con l'Empoli per conti, il Milan dovrebbe incassare un milione di euro, o adesso o a salvezza conclusa. Ma il Milan vuole ottenere una corsia preferenziale per Mattia Viti, difensore di 19 anni, 24 gennaio 2002, quindi ne farà 20 tra pochi giorni. Molto interessante, è nato a Borgo San Lorenzo, 1,90, ha un contratto di scadenza con l'Empoli nel 2025. Piace a tanti club perché si sta distinguendo molto bene, anche se è un giocatore emergente, 8 presenze quest'anno in Serie A. Lui ne ha poi 4 nell'Under 20 e è stato convocato anche dall'Under 21. Gioca sul centro-sinistra, gioca sul centro-destra e è uno di quei giocatori che possono arrivare quando sei così giovane. Poi ci sono tanti elementi che o ti portano o ti bloccano e non arrivi. Però un investimento su questo giocatore Milan vorrebbe farlo, proprio per l'estate, proprio per inserire anche un giovane italiano, cosa che non fa mai male, lo sappiamo. Quindi nei discorsi con l'Empoli per Conti, al 95% Conti andrà l'Empoli, attenzione a Viti, che Mina vorrebbe prendere per l'estate appunto. Difensore molto interessante. Discorso anche per l'estate, ma che può essere attuato adesso, se Castiglieco accetta la destinazione Genoa, è quello legato a Andrea Cambiasso, terzino, esterno, terzino, sinistro, di 21 anni, italiano pure lui, perché è giusto andare a prendere anche italiani. Li leggo i vostri messaggi. In tanti mi dite, ma perché non prendiamo mai italiani? Vero. Questi sono profili italiani interessanti. Lui è in contatto in scadenza con il generale nel 2023. Quindi o va via quest'estate o va via quest'estate appunto. 19 presenze, un gol e 4 assist nel Genoa. Anche due partite fatte con l'Under 21. Insomma, mi è piaciuto quando ho giocato contro il Milan, anche quando ho visto il Genoa non mi è affatto dispiaciuto. È interessante, a gamba, fa assist, ha fatto anche una rete che non è affatto male per il primo anno in Serie A. Devo dire che se si riuscisse a fare un'operazione di scambio per il futuro, cioè ti do Castilleco, mi dai Cambiasso e te lo lascio lì fino a giugno, non sarebbe affatto male. Anche perché il Milan, nel frattempo, sta cercando di indagare il mercato, cercando appunto un terzino sinistro alternativo l'anno prossimo a Tevernandez, visto che Ballotouré non è sembrato all'altezza, adesso pure via per la Coppa d'Africa e quindi la sensazione e il rischio che a fine regime, a campionato concluso, le risposte su Ballotouré non siano positive, non siano esaltanti tanto per usare un eufemismo. Attenzione perché, secondo me, a gennaio non arriva nessuno a darti soldi per Castilleco, tutti vogliono il prestito, se si può fare un'operazione magari un po' più allargata con il Genoa non sarebbe affatto male, anche se su Cambiasso ci sono diversi club importanti, visto che si sta mettendo in mostra in un Genoa che Ficui non ha fatto benissimo, lui è stata una delle poche note positive. Ci spostiamo poi sul discorso difensore, passiamo da Fevre, giusto un flash su Fevre, giocatore di 23 anni, 1,80, scadenza 2025 con il Brest, ragazzi lui quest'anno sta facendo non bene, di più, 18 presenze, 7 gole e 5 assist, ha segnato anche su calcio di rigore l'altro giorno, in Coppa contro il Bordeaux di Adli, che però non c'era, sta facendo molto bene ragazzi, i numeri lo dimostrano, le prestazioni ha anche, ha un piede molto educato, un mancino che crea sempre superiorità numerica, che vede anche i compagni, è un giocatore di qualità. Non viene visto però come un trequartista centrale alternativo a Diaz, attenzione, ma come un'alternativa a Messias. Lui, notizia questo, proprio un flash, una chicca, lui continua a fare il Diavolo a 4 per arrivare al Diavolo, ha una fissazione, vuole andare al Milan, se l'è posto come obiettivo, ha provato con il suo procuratore a riallacciare i discorsi, il Milan in questo momento però è più orientato a pensare per l'estate, anche se lui continua a fare un pressing asfissiante per arrivare subito a Gennaio, ma non credo che ci siano le possibilità. In ogni caso, vediamo, il Milan lo monitora, piace molto per l'estate alternativo a Messias, che deve però alzare le prestazioni e deve dare più continuità di prestazione soprattutto. Questa è una chicca rapida, rapidissima. Proseguiamo il discorso e andiamo sul discorso punto difensore. Ieri ha ufficializzato un rinnovo con il Chelsea Thiago Silva. Il Chelsea ha detto lui resta, lasciando intendere che altri non lo faranno. C'è sempre Rudiger, che è un pallino di Massara che non rinnova, ma Rudiger probabilmente va in Spagna, Real Madrid o Barca. Attenzione a Christensen, che a dispetto di quello che molti dicevano non sta rinnovando il contratto. Siamo ormai a Gennaio, non c'è l'opzione unilaterale del Chelsea che può esercitare per rinnovare, come era successo ad esempio con Giroud, come era successo con Bakayoko. Quindi il Milan lo monitora, o meglio, il Milan con Maldini stravede per Christensen. Bisogna capire se si riesce ad arrivare. Il fatto che lui non stia rinnovando è una cosa sicuramente utile. Se si fa fatica ad arrivare a Bottman, il Milan potrebbe prendere una soluzione tampone adesso, un giovane meno importante, in prestito con diritto, per poi provare a chiudere con Christensen. Ma devi chiudere con Christensen subito, altrimenti si va avanti già a febbraio, troppo tardi. Quindi il difensore che rivela adesso sarà molto interessante anche in ottica estiva. Andiamo su Sven Botman, ragazzi. Fake news. Fake news è quella che è stata rilanciata dalla stampa inglese ieri, o meglio, da Sky UK. Secondo cui l'Ill avrebbe chiesto per Sven Botman, giocatore di 21 anni, quasi 22, tra pochi giorni, 12 gennaio, difensore dell'Ill, scadenza 2025. Secondo cui l'Ill avrebbe chiesto a Newcastle 60-70 milioni di euro. Fake news, ragazzi. In tanti però mi avete detto, ma come è sfumato? Cerchiamo anche di andare sul verosimile. È inverosimile che per un giocatore forte sì, ma di 21 anni, che deve ancora dimostrare tanto, il Lille chiede 70 milioni di euro, 60-70 milioni di euro, ragazzi. Non è così. Il Lille chiede 30 milioni di euro, da quello che ci risulta Sponda Milan. Il giocatore è ancora negrada, o meglio, è sempre la prima scelta. Un'altra cosa vi dico, capendo anche un po' il modus operandi di questo Milan, è vero che filtra poco, però se il Milan non è più su un giocatore, questo noi giornalisti lo vediamo a sapere. In tempo zero. Se il Milan non sarà più su Sven Botman, se il Milan non avrà più una percentuale su 100 di river Sven Botman, credetemi, lo sapremo un minuto dopo, perché questo trapelerà dal Milan, dalla comunicazione, piuttosto che dai dirigenti. E quindi, in questo preciso momento storico, oggi, siamo al 4 gennaio, il Milan è ancora su Botman. Poi abbiamo capito, cercato di capire anche altre questioni sul discorso Assel in Milan, magari ci dedicheremo appunto un video più tardi, ma in questo momento, ribadiamo, il Milan ritiene ancora, spera ancora di poter arrivare a Sven Botman. Fake news, 60-70 milioni di euro, ragazzi. Non diamo peso a certe butada, a certe sparate. Il Milan, in questo momento, è ancora su Botman. Poi non è facile, lì deve abbassare le pretese, ci sono diverse carte che il Milan si può giocare. In questo momento, la prima scelta è Botman. Detto che Christensen piace di più, ma in questo momento non siamo così caldi su Christensen, che è più un discorso legato all'estate. Quindi, ragazzi, quando e se il Milan riterrà di non avere più speranze su Botman e verrà su altri obiettivi, lo sapremo in tempo zero. Ci sono altre ipotesi di lavoro, sì, assolutamente sì, ne parleremo, ma il prescelto per gennaio è Botman, lo ribadiamo con estrema certezza, appunto. Lasciate un like qui sotto, ragazzi, iscrivetevi in un rosissimi, e perché no, fate iscrivere tra amici, rossoneri, nuovi utenti di Milanello, e partecipate al concorso, uno di voi verrà estratto per vincere la maglia ufficiale del Milan. In pochi l'hanno fatto, quindi se lo fate avete buone chance di vincere, discrete chance di vincere. Un abbraccio, ragazzi, vi rimando al video di questa mattina, in cui vi parlo del prescelto per sostituire che sì. Ci vediamo più tardi, ragazzi, un abbraccio, ciao!